Salve amici del canale, qualcuno mi ha chiesto praticamente che inchiostri utilizzare durante la fase di scrittura e ragazzi non c'è un consiglio che posso darvi se non quello di utilizzare inchiostri delle case madri della penna che avete acquistato cioè nel senso che se io compro una stipula utilizzate stipula, se comprate pelican utilizzate pelican come consiglio però attenzione, ci sono alcune tipo case che non hanno queste pretese, per esempio Montblanc è una di quelle che pretende per dire inchiostri della sua portata insomma della sua penna, della sua casa madre, vedete questi qua, e sono inchiostri che hanno un prezzo abbastanza salato non è alla portata di tutti, cioè parliamo sempre da 20 euro in su, quindi 20-30 euro spendete perché comunque Montblanc è un nome blasonato e si fa pagare insomma però per il mio consiglio queste penne che scrivono questi inchiostri hanno, questo inchiostro è molto liquido è insomma abbastanza particolare come inchiostro c'è questo che è un ottimo inchiostro Schiffer, la penna non sbaglia un colpo ma è comunque un prodotto che tende a farvi espandere l'inchiostro sulla carta cioè nel senso che se utilizzate un penino M, un penino B, io lo sconsiglio perché per quello che ho provato io tende a farvi espandere l'inchiostro dopo che avete scritto per dire bello, bello, vedete che qualche volta si fa quella pieghetta nei lati insomma è molto espandito, lo consiglio per gli extra fini però è un ottimo inchiostro, scrive molto bene ed è un flusso della penna che ve la lascia veramente in modo eccellente, Monte Grappa è uno dei miei preferiti perché fa delle colorazioni che si abbinano al mio gusto questo per dire è un Bordeaux uva, molto simile al vino, è un Bordeaux però è insomma abbastanza simile al vino è un ottimo prodotto e veramente io mi trovo molto bene con gli inchiostri Monte Grappa sono abbastanza liquidi ma non eccessivamente, questo è uno di quelli che io gradisco di più l'herbin è abbastanza compatto, questo ha i brillantini come vedete nella parte sottostante ci sono dei brillantini che ora mettendo la boccetta sotto sopra vedete cominciano a scendere questi brillantini vedete come si muovono, vedete che belli questa qua è un inchiostro, poi lo potete sbattere insomma per vedere se ne scendono questi brillantini questo inchiostro è particolare perché vi dà la possibilità di far brillare la vostra carta inchiostro brilla e sembra che la pagina brilli assieme alla pagina che avete steso è molto particolare ma non è consigliabile per tutti i tipi di penne consiglio penne di grande spessore perché quando sono piccole magari il conduttore ha una filettatura molto piccola e potrebbe bloccarsi ma vi dico che queste sono dicerie comunque allo stesso tempo perché io ho provato anche sugli extra fini questo inchiostro non si è mai bloccato niente qualcuno vedevo delle recensioni criticano molto questo fatto dell'inchiostro perché dicono che in realtà blocca i pennini poi la devono portare in riparazione a me non è successo e ne ho provate su una decina di penne quindi vi dico che è un ottimo prodotto da acquistare e da avere nella collezione molto bella anche la boccettina di inchiostro stipula è un prodotto che non si trova più in giro ma peccato perché questo è veramente un ottimo inchiostro come vedete anche la boccettina è scura diciamo previene problemi alla luce solare è un ottimo un ottimo inchiostro io l'ho provato su varie penne non dà problemi al punto giusto bella colorazione questo è un inchiostro che va sul viola è un viola chiaro insomma è un ottimo inchiostro ragazzi se lo trovate in giro compratela anche la boccetta è molto più grande di una comune come potete vedere c'è una differenza molto bello 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 questo è un ottimo inchiostro da usare su tutti i tipi di penne questo è anche un ottimo inchiostro poi dopo vi dirò qual è il migliore da usare con tutte le penne però che io poi non è che preferisco ma ce n'è uno in particolare questo è un Erbin l'Erbin è la stessa casa mi sembra di questa sì che però praticamente fa queste qua piccoline per farvi provare anche dei colori questo è un brunotte che io non gradisco sinceramente mi è stata regalata ma non mi piace perché non lo so veramente sa di tetro è quello che vuole alla fine infatti il brunotte ma non è quel blu azzurro che uno si aspetta sai è proprio la notte insomma non è quell'azzurrino che uno si aspetta questo diciamo vabbè ci sono varie colorazioni questi sono veramente validi come inchiostri però da non utilizzare per certi tipi di penne l'ha inserito in un Amon Blanc questo è un Pelican no? e questo Pelican l'ha inserito in un Amon Blanc per puro caso di farmi provare vedevo che tra i Rebbi spruzzava inchiostro la penna quando cliccavo il pennino sulla carta quando preimpigiavo questo pennino vedevo che tra i Rebbi usciva questo inchiostro perché questo qua è molto liquido liquidissimo perché deve far scivolare la penna invece sulla penna diciamo della casa madre cioè Pelican questo problema non lo avrete è veramente un ottimo prodotto e dovete averlo per forza se utilizzate Pelican perché le penne scivoleranno benissimo si chiama Edelsthenning collezione l'Aurora è un ottimo inchiosso molto liquido anche questo si può utilizzare con più penne però a me non piace una cosa dell'Aurora io ce n'ho una veramente poi ve la farò vedere ma non la caricherò perché ci saranno dei video dove io non caricherò delle penne perché sono serie limitata ma limitata non come quelle che vi ho fatto vedere ma parliamo anche di prezzi che veramente siamo oltre il portafoglio normale nel senso che parliamo veramente di sacrifici solo per farvela vedere perché devo veramente stare attento a non rovinarle e non le caricherò perché me le voglio tenere in collezione perché poi avranno sicuramente un valore sono sicuro maggiore nel futuro perché non le troverete più allora Aurora è un inchiostro molto liquido dicevo però ho notato che diciamo il feedback di alcune penne se non utilizzate Aurora non è dei migliori cioè sembra che a volte si va più chiaro a volte è più scuro la penna è molto liquido sull'Aurora va benissimo ma su altre penne insomma si va bene ma piacere di scrittura non lo provo vi dico la verità questa è la boccettina piccolina della Mabudu Hiroshizuku questo è uno dei più costosi al mondo come inchiostro sinceramente non so perché molto quotato questo inchiostro vi dico la sincera verità nel senso che tutti dicono Hiroshizuku Hiroshizuku questo lo fa per le pilot per le penne giapponesi io devo essere sincero tutta questa importanza data soprattutto a prodotti ma non perché siano stranieri attenzione che veramente è un ottimo prodotto questo scrive benissimo ma l'ho provato su varie penne personalmente non ho notato questa eccellenza di questo prodotto come dicono tutti non noto tutta questa differenza vi posso dire proprio la verità cioè ci stanno alcuni come questo che magari è una casa italiana e per me scrive meglio questa la penne con questo inchiostro qua che con questo io non so perché ma sono gusti forse personali io da quello che ho notato questo scrive la penna scrive bene è un bel inchiostro tutto quello che volete ma non noto personalmente l'ho provato su più penne ecco questa per esempio diceva che era un colore vino per dire già questo in realtà non è un colore vino cioè andava sul bordo vino questo qua si chiama Yamabudu in realtà mi sembra più un porpora cioè quando infatti si vede già dalla boccetta no assomiglia più un porpora che vino anche qui invece uno che veramente per me poi questo è un ottimo prodotto acquistatelo tenetelo in collezione costa un occhio della testa quando comprate il flacone grande questo è da 15 ml per provarlo è un ottimo inchiostro tenetelo soprattutto se usate le pilot diciamo le penne giapponesi però io sinceramente tra i miei preferiti eccolo qua ho questo qua l'Octopus l'Octopus non l'ho trovato stranamente nella come posso dire nel negozio di penne stilografiche che diciamo ci sono in giro non l'ho mai trovato e è un prodotto che ho trovato su Amazon una casa tedesca produce questo Octopus ragazzi è una cosa incredibile è un colore questo dice vino questo si chiama Walleroth significa vino è un prodotto veramente eccezionale io penso che tra tutti gli inchiostri che vedete sulla mia scrivania il migliore è questo vi dico perché perché la penna a me con questo tipo cioè qualsiasi penna che io utilizzo con questo tipo di inchiostro ha un flusso eccellente corposo non dà quella sensazione di come devo dire di sbavatura di come devo dire è fedele ecco diciamo al colore che lui vi fa vedere qui su questo piccolo puntino è proprio il vino cioè se voi osservate bene è fedele l'inghiostro a questo tipo di colore se usate un penino M vi divertite perché vedete veramente ho visto c'ha molte colorazioni addirittura alcune sono fluorescenti ragazzi io i video che faccio non sono diciamo incentrati per fare critiche attenzione però io devo dirvi quello che ho provato con la massima sincerità se un prodotto a mio avviso vale o non vale ma secondo il mio parere attenzione perché per qualcuno potrebbe valere l'esatto opposto qualcuno mi dirà ma come ti permetti vedi che l'Iroshizuku che sarebbe questo è il migliore del mondo perché è così ecco lì sì avrà ragione lui non io attenzione però io vi dico per le prove che io ho fatto quello che mi ha dato meno problemi da tutti questi qua che vi sto mostrando è questo io ce n'ho anche altri però se vi dovessi far vedere tutti i miei inghiostri vedete c'ho una collezione di tutti i vari tipologie di inchiostri e quant'altro ma è infinita la mia collezione di queste cose mi piacciono tanto le colleziono ho una casa piena di penne stilografiche ed inchiostri vi dico che questo è il migliore secondo me poi ognuno ha il suo giudizio e vale la pena provare comprate almeno una boccettina da 30 ml le fa anche più grandi non è molto costoso questo costa una decina d'euro però trovate anche quelle che costano molto meno nel senso che costano di più ma hanno molto inchiostro all'interno quindi risparmiate sulla quantità però è veramente ottimo questo inchiostro questo è un biscotto guardate com'è bello si presenta anche all'interno di una scatola ben confezionata molto carina questo è verde non guardate i puntini neri perché in realtà è solo verde questo inchiostro è molto liquido l'ho provato gradevole ma non troppo cioè questo colore è un colore sembra un po' un verde che si paragona un po' quello dell'ospedale più che sapete il verde che utilizzano i dottori camici quella roba lì assomiglia molto non è male però io quando scrivo mi fa pensare l'ospedale vedete com'è bello anche da collezione solo se lo comprate lo mettete sulla scrivania e ragazzi io non so perché ma molti buttano sempre l'estero avanti i stranieri fanno cose miglior ma non è vero perché questo pure è un altro marchio italiano è ottimo questo è un marchio italiano è ottimo ragazzi noi non siamo secondi a nessuno nel senso che è soggettivo la cosa ma io per quello che ho scritto vi dico che sono veramente ottimi prodotti può scrivere su ogni tipo di penna questo qui questa no vi ricordo questo l'herbin nepal oppure qualsiasi altro colore questi non utilizzateli su tutte le penne perché a me non è successo che si sia bloccata ma a qualcuno può succedere io non voglio farvi rischiare nel senso che io non lo so a me non si è mai bloccato niente ripeto con questo qua però non sia mai vi succede non date la colpa a me perché non lo so a me sinceramente per me è perfetto ed è anche una bella colorazione ecco questo è quello più consigliato che vi posso dire perché perché vi consiglio questo questo sì ve l'ho consigliato perché è il migliore quando ha per me ma questo diciamo è il numero uno numero uno ma non per la bellezza diciamo se dovessi comprare tutti fra questi io comprerai sempre questo perché io sono quello che io utilizzo questo qua in più rispetto agli altri e personalmente scrivo non è benissimo questo però se vi devo dire per un pubblico che si avvicina al mondo delle stili comprate questo e andate sul sicuro è un Woterman Woterman ovviamente ha una storia come azienda è francese e questo inchiostro ha il giusto compromesso fra liquidità flusso diciamo molto buono guardate da provare è molto facile da pulire è uno di quelli che quando utilizzate la penna stilografica la volete pulire usate questo inchiostro e non andrete mai male perché si pulisce molto facilmente veramente è un bel inchiostro molto bello rispecchia molto l'immagine questo qui questo colore blu che avete qui no ragazzi è da usare questo inchiostro è un ottimo inchiostro un ottimo prodotto e ve lo dico col cuore quindi ragazzi io farò anche altri video dove farò anche delle prove sugli inchiostri questi qua verranno provati io se mi seguite avrete veramente ottimi consigli perché qua oggi i soldi vanno e vengono e quindi se dovete fare un acquisto cercatelo di farlo bene quindi sono solo a fini positivi grazie per i video che vi seguite